M, l'uomo della provvidenza, il secondo volume del ciclo narrativo, comincia esattamente lì dove finisce il primo, M, il figlio del secolo. Vale a dire, all'indomani del discorso con cui Benito Mussolini, il 3 gennaio del 1925, di fronte al Parlamento riunito, quando tutti lo credevano ormai un politico finito, a seguito dell'enorme scandalo e senso di orrore che pervade l'Italia dopo il ritrovamento del cadavere di Giacomo Matteotti, brutalmente ucciso da dei sicari fascisti, Mussolini ha questo colpo di coda, va davanti al Parlamento, sfida i parlamentari dell'opposizione con un memorabile discorso, si assume la responsabilità storica, morale di ogni atto del fascismo e invita l'opposizione a fare uso del codice che consente a un deputato di portare in giudizio il Presidente del Consiglio davanti al Re, brandisce in aula proprio il codice come se fosse quasi un testo sacro e purtroppo nessuno si alza e in quel momento Benito Mussolini instaura di fatto la dittatura. Il secondo volume si apre all'indomani con, credo, una sorpresa per i lettori perché tutti immaginerebbero e immagineranno di trovare un Mussolini trionfante che ha sconfitto l'opposizione, i suoi nemici, è riuscito a dispetto della moralità, della decenza, della legge a imporre il proprio volere, il proprio potere e invece troviamo un Mussolini in punto di morte. Prostrato, schiantato da una violentissima crisi di ulcera duodenale che lo costringe piegato in due a vomitare e non solo nella sua stanzetta, rosso e corroso dallo stress e dai sensi di colpa per la tremenda fine che ha procurato a Giacomo Matteotti. La prima scena di M, l'uomo della provvidenza, che racconta il momento dell'apogeo del potere politico e anche della parabola storica di Mussolini, si apre su un Mussolini che vomita sangue.